ragazzi buongiorno vi ricordo per chi volesse sostenere il canale lo può fare solo ed esclusivamente gratis con un semplice click cliccando cliccate eh iscriviti e attivate la campanellina siamo quasi a novemila duecento iscritti io ci metto del mio ma metteteci anche del vostro se vi fa il piacere non vi costa nulla iscrivetemi vogliamo arrivare a diecimila obiettivo dichiarato di questo canale arrivare a diecimila iscritti certificati sappiamo benissimo che questo è un canale che ha dei numeri di gran lunga superiore ad un canale di quasi diecimila iscritti questo è un canale che ha numeri da trenta a quarantamila iscritti però ci va bene siamo contenti in nemmeno due anni non si fanno così sei milioni di visual vuol dire che qualcosina di buono abbiamo detto voglio dare un annuncio che a breve incominceranno incomincerà la serie calciopoli con effenberg chi meglio di lui può conoscere quelle carte motivi li sa lui quindi tra un paio di settimane cominceremo con eh la serie calciopoli saranno tre o quattro puntate so che a molti fa piacere molti vorranno partecipare calma calma nessuno meglio di effenberg può raccontare cosa è successo a calciopoli con documentazione alla mano e quando vi rompono i coglioni perché siamo arrivati addirittura a farci rompere i coglioni dagli giuventini ricordategli ai signori che grazie alle plusvalenze hanno potuto comprare dei giocatori che non può che non avrebbero potuto comprare attraverso i quali si molto probabilmente si qualifieranno in Champions League ed attraverso i quali parteciperanno al mondiale per club ricordateglielo ai signorini che ci fanno gli esposti ricordateglielo sempre che quest'anno sono stati graziati perché gli hanno salvaguardato il brand hanno preso giocatori che non potevano prendere attraverso i quali hanno raggiunto dei risultati hanno preso trenta punti da noi quello non è un problema ma hanno comunque raggiunto dei risultati che gli ha portato dei benefici economici ricordateglielo ai giuventini quando vi rompono i coglioni sacchi sacchi fai te sacchi vedi cioè il discorso è che te sacchi fai una retromarcia imbarazzante facevi meglio stare zitto secondo me cioè quella supercazzola non ti porterà a nulla sacchi perché ormai danno l'hai fatto hai detto quelle parole lì e ci sono anche giornalisti stanno dicendo quello che ho appena detto io te vai quel relato secondo me per quello che hai detto perché qui non è che si sta ragione si sta discutendo di un rigore dato non dato di un arbitro che qui a noi ci hai dato di ladri barare uguale rubare rubare lo fanno i delinquenti e ripeto non si può stare zitti davanti a queste cose e a me questa politica del silenzio mi ha rotto i coglioni non è vero che è una politica perché si pensa solo al campo no perché altrimenti allenatori come Morigno non dovevano mai parlare all'inter e te fai il triplete quell'anno perché gestisci anche la comunicazione ricordatelo e se tutte le squadre di club se tutti i top club sono organizzati con dei responsabili della comunicazione ci sarà un motivo che dici forse non è una consiglia da sottovalutare mentre mentre giornalisti di pechino sono lì a difendere zanga ma non sono lì a difendere l'inter loro gli interessa solo difendere zanga non gli frega nulla di difendere l'inter loro sono stati messi lì per difendere i cinesi perché ci danno tutti addosso perché te l'ho detto ieri perché ci danno tutti addosso perché si sono stancati di vedere una società come la nostra che fa debiti su debiti e che rompa le scatole che vince perché te ti devi mettere nei panni anche di un presidente che investe che presenta i bilanci in ordine e che vede l'inter che magari con due tre parametri zero ne vende uno ne compra due vici il campionato 20 punti è normale a quell'altro che girano le scatole ma a noi il sistema ce lo permette noi siamo in totale legalità infatti loro dov'è che stanno andando ad attaccare loro stanno attaccando il sistema per far sì che non ti permettano più di andare avanti senza investimenti io da un lato posso dire che non puoi tenere una società di cancio se non puoi più fare investimenti comprati un ristorante o una discoteca o una squadra di ping pong io è così che la penso perché tanto ormai la situazione la sappiamo tutti che è insostenibile stamattina scrivono rinnovi di barella e di lautaro congelati fino a quando subentrerà 3 lo scrivono stamattina quindi non lo dico io ci può essere solo che il cambio si sta parlando tantissimo di taremi taremi è il diego costa dell'euro spin io l'ho sempre definito così un calciatore che a me non piace per nulla il primo anno al porto fece molto bene primi sei sette mesi poi ebbe un calo quest'anno sta attraversando una regione imbarazzata una sì una regione la toscana ciao mamma una stagione imbarazzante quest'anno taremi sta facendo una stagione imbarazzante lui sta facendo di tutto secondo me per venire all'inter perché non ha fatto le visite a gennaio per non creare caos con il porto perché onana fece le visite il 4 di gennaio davanti a tutte le telecamere non è solo quello il problema per come la vedo io stai calmo non incominciare l'ho detto per come la vedo io c'è qualcosa e non convince i dirigenti dei razzurri su questo giocatore e fate bene se non siete convinti fidatevi di me perché io ero quello che vi diceva di non prendere il ballerino ero quello che vi diceva di non prendere Gosens ero quello che vi dicevo di non prendere Vidal era quello che ti diceva di non prendere Arnatovic ero quello che ti diceva di non prendere Sanchez e via discorre era quello che ti diceva di non prendere Lazzaro perché lo conoscevo era quello che ti ha detto di non prendere tanti giocatori mentre era quello che ti dicevo di prendere il tuo ramo infortunato di lasciare corre alla Lazio. Non so certo un esperto di 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 calcio mercato però qualcosina forse un po' la palla rotolare la so vedere. Che ne dici? Tremi un calciatore lento che sfrutta solo il fisico e in calo anche fisicamente a trentadue anni e gioca in un campionato scarso dove Jackson Martinez ve lo ricordate? Fece ottanta gol poi andò in premier e a malapena gli facevano fare gli allenamenti. Quaresma era un fuori classe. Quanti ne vuoi? Di esempi di fuori classe usciti dal Portogallo che poi non hanno fatto nulla. Gnugno Gomez quanti ne vuoi? Anche se Gnugno Gomez qualche golletto alla Fiorentina lo fece. Quindi eh Tremi secondo me sta cercando di tutto per venire al lì e sta facendo di tutto lui per arrivare da comunitario secondo me Tremi eh il piano C ed arriva solo in caso di disastro economico e magari non puoi più spendere nulla o che so a fine mercato ma non la vedo come una scelta principale pur essendo un giocatore a zero perché te quando mi dici giù se lo prendi a zero mi fai ridere non esistano più amico interista non esistono più i giocatori a zero il procuratore vuole cinque sei milioni di cosa stai ragionando? Quattro li devi dare a lui puliti per almeno due due barra tre anni di cosa ragioni? Sono operazioni da 30 milioni questo. Quale zero? Non paghi il cartellino ma non paghi il cartellino ma eh c'è la gente che ti chiede quattrini eh di cosa ragioni? Non esistono più i giocatori a zero. Ci sono i procuratori che la fanno da padrone ma di cosa stiamo ragionando? Spero che l'Inter non lo prenda perché non mi piace questo giocatore. Te lo ripeto a me Tremi non piace per nulla. Non mi piace. è anche vero che da matti va fatto una mezza rivoluzione. Sento parlare di offerta di 80 milioni per TUNAM. Fermo fermo. Fermi eh. Fermi. 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 Attenzione. Lascia perdere i Ticus. Stai buono con Ticus. Vendi qualche un altro perché l'ho detto mille volte anche una nuova proprietà davanti a delle offerte faraoni e sei stretto ad ascoltarle. Soprattutto quando hai la nostra situazione debitoria. Non è che arriva una nuova proprietà e spende quattrocento milioni di mercato subito. Non può farlo. Per vari motivi. Ma una nuova proprietà può incominciare finalmente a lavorare su questo debito a mostre che è diventato ingestibile. Saremi è inutile tu mi rompa i ognoni. A me non mi piace. Va bene? Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.